tra tutte le cose un arachide sai sono particolarmente appassionato di arachide perché c'è stato un periodo della mia vita in cui vivevo di sole arachidi e banane nient'altro perché contengono tutto quello di cui ho bisogno solo arachidi ammollate una manciata questa quantità di arachidi messe a mollo una notte una banana mi bastava per una giornata ero perfettamente attivo più attivo di quanto la maggior parte delle persone potrà mai immaginare ha tutto per il tuo sostentamento è un cibo completo di per sé se la metti a mollo per sei otto ore vengono eliminati certi aspetti chiamati pitta sai cosa è pitta i medici allopatici non lo considerano ma l'ayurveda si basa su questo us nascita in pitta toglia la pitta prendi queste arachidi ammollate le mastichi bene le mangi assicurati solo che non sia qualche schifezza modificata geneticamente potrebbero essere geneticamente modificate non dichiarano più cose modificato e cosa non lo è un altro fatto è che stai spargendo talmente tanti fertilizzanti e pesticidi che l'arachide non è più un arachide assicurati quindi che sia un prodotto biologico se vuoi fare colazione vuoi una ricetta prendi una manciata di arachidi mettile a mollo per sei otto ore mettile nel frullatore se vuoi aggiungere della frutta aggiungi una banana o quello che preferisci la banana va bene puoi aggiungere qualsiasi altro frutto se vuoi aggiungici del miele due minuti e hai pronta un'eccellente colazione ci vogliono solo due minuti per farla se la vuoi più liquida aggiungi semplicemente più acqua e la bevi se la vuoi tipo porridge la fai densa e la mangi vedrai che ti terrà su facilmente dalle 4 alle 5 ore ed è altamente nutriente grazie a tutti grazie a tutti